La SPAL con Gomis in porta, Salamon, Vicari e Weissen in difesa, Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora e Costa a centrocampo. La copia d'attacco è composta da Paloschi e Borriello. Perfetto Filippo, grazie mille, tra un attimo torneremo da te. Buon pomeriggio Leo Corno! Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati! Buon pomeriggio Tiziano Crudeli, ciao Tiziano! Buongiorno. Buon pomeriggio Roberto Vettega! Buon pomeriggio e buon anno a tutti! Ben ritrovato Gianni Solaroli! Ciao Francesco! Giardini, Vessino va in panchina, Candreva, João, Mario, Peresic, Unica, Punta, Mauro, Icardi. Quattro gol in due partite. Per quanto riguarda invece la SPAL con Gomis in porta, Salamon, Vicari e Weissen in difesa, Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora e Costa a centrocampo. La copia d'attacco è composta da Paloschi e Borriello. Preda di testa di Miranda che rimette il pallone sulla tre quarti della SPAL. Va a recuperare il pallone Mora che prova ad andare via in mezzo a due. Poi serve Lazzari. Il lancio sulla tre quarti centrale. Skriniar prova l'anticipo, va a vuoto ma poi recupera il pallone. Molto bene Skriniar. Allora Candreva in mezzo a due riesce a saltare l'avversario. Va in orizzontale. Poi si avanza di qualche metro. Palla al piede. Allora Candreva dà il pallone ancora all'indietro a Skriniar. Poi Borca Valero, lina mediana per a Miranda in orizzontale. Subito sulla sinistra per Dalberga. Qualche metro per avanzare. Lì lo aspetta Lazzari. João Mario. João Mario va a prendersi il pallone. Orizzontale ancora per Gagliardini. Tre quarti centrale. Tutta per la SPAL però è posizionata. Molto bene. Ancora João Mario. Orizzontale per D'Ambrosio. Si va a destra per Candreva. Candreva prova a verticalizzare. Orizzontale per D'Ambrosio. Scambiano i due. Borca Valero per D'Ambrosio. Posizione di cross. Chiama la palla a Candreva che non è in fuorigioco. Può crossare dalla destra. Il cross in mezzo sul secondo palo. Salta Peresic ma non ci può arrivare. La palla va dall'altra parte. La recupera Dalber. Sull'au di sinistra. Terzo di gioco. Stiamo per entrare nel quarto. Peresic. 1-2 con Dalber. Velocissimo Dalber. Proverà le sferi in fondo. Il cross in mezzo. Buono. Era di accanti. Rimane un po' indietro con i centrocampisti. La Spal trova spazio per arrivare negli ultimi 25 metri. 12 minuti di gioco. 0-0 San Siro tra Inter e Spal. In attesa ancora di notizie soprattutto dallo Stadio Olimpico di Roma. Ci fermiamo. Diamo due minuti. La linea alla regia. Torniamo subito. Euro Seramenti garantisce i vostri nuovi seramenti. Alta qualità certificata dei materiali. Perfetto risultato. E scopri le informazioni su questo canale. Il Teletext ogni giorno al tuo servizio. 16 sul cronometro San Siro. Sempre 0-0 tra Inter e Spal. 7 Gold. La TV del divertimento. 7 Gold. Avevo il colesterolo un po' alto. Ecco il segreto. 7 Gold. Eccoci qui di nuovo insieme. Grazie. 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 Sette Gold La TV delle emozioni Sette Gold Sette Gold La TV del calcio Sette Gold La sorpresa dell'autunno Su Sette Gold Il processo di Biscardi Alle 20.45 L'anteprima Con Elena Barone Alle 21.15 Il processo Con Giorgia Palmas Il processo di Biscardi Domani alle 20.45 Su Sette Gold Sette Gold Dipendenza Sette Gold Sette Gold La TV del calcio La TV del calcio La TV del calcio Grazie.